voilà ancora un istante ci siamo ho fame la prego di pazientare ancora un pochino chiamata oh gentilmente lord virus può rispondere lei per favore ma al momento sono impegnato richiamate più tardi vostra 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 maestà è un giorno importante per noi grazie per averci dedicato al vostro tempo molto carino da parte vostra chiamarci spero vada tutto bene maestà tanto che non ci vediamo ho deciso di chiamarvi perché ho bisogno di parlare con voi e di cosa se non sono indiscreto del fatto che vorrei incontrare goku